Dai che staglia Siete dei cancri, dei cancri di merda Matti no, così ce ne muore matti 29 Sono dei cancri Sono dei cancri Fai anche tu Ah, amato Amato, per favore Preso Io mi chiedo La persona che è da Playstation Non può essere così veloce Abile e precina Che cazzo c'hai lo scaf Magari Attento, adesso non riesco Ma non è morto Morto quell'altro Ma non è morto 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 Ma non è morto